... Ragazzi, prima di mettervi il video che ho fatto Che ho trollato Francesco Non potete capire, ragazzi, si è messo a piangere Vabbè, ragazzi, non voglio dirvi altro Buona visione ...che vado in un altro team Cioè, non è che vado Cioè, diciamo, mi sta contattando un team No, dicendo, guarda che ti vogliamo nel team, eccetera Perché hai tolto le cuffie? No, in poche parole, io sono capo di un team, no? Però, questo team mi ha contattato È giusto che io sono solamente... Cioè, stanno solamente tre membri nel mio team Perché tu, a parte che hai guittato anche tu Però, va bene, fa nulla Gli altri lo espulsiva perché non erano bravi Quindi, non so se qua E... E Francesco, ma se l'è presa male Perché forse io abbandono il team Forse abbandono il team E lui se l'ha presa Cioè, se l'è presa in poche parole Dai, non mi fate parlare che io sono stanco Dai, Francesco, ma tanto c'è Ma sai quanti te ne trovi di altri team, ma fra, dai Non la prenderà male, dai Sì, così tu giochierai sempre con loro Ma che te l'ha detto, Francesco? Che te l'ha detto? Francesco Oh Che te l'ha detto che gioco con loro? Franji, oh! Che cazzo vuoi? Devi parlare, ma perché stai piangendo? Franji 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 Eh, ma ti sta a fare una domanda Perché stai a piangere? Così Io, ma tanto non giocherò tanto con loro, fra Giocherò solamente nove ore al giorno Cioè, non è che è poco, fra Tanto poi Cosa? Io ho venuto con sette Vabbè, ma poi decide tramite l'orario, eh Non è che Dai, Francesco Non la prenderà male, Francesco Cioè, tanto Cioè Se vuoi ti posso fare entrare pure io in questo team No Poiché no Perché no, Francesco Così non vediamo più con nessuno Ma perché tu non hai amici? Io, ma tanto poi c'è Nicole Dai Dai, c'è Nicole Tu, dai Giochi con lei Nicole Tu saresti disposta a giocare a posto mio con Francesco? No Ma perché no, Francesco? Mi metto a giocare a Blue Stars Eh, ma voglio sapere perché non... Non c'è, perché non può venire al mio posto lei? Franci Eh, Franci però ti devo dire un'altra cosa Cioè, io già ci sono in questo team Però sai cosa, Franci Che è tutto un troll Si è stato brincato Vaffanculo Che infame, guarda Godò Questo, questo Dove dovete sapere, raga A parte che sto facendo il video Dovete sapere, così, guardate Le lune sono blu Tutte blu Cioè, Luca andò sempre a sta canzone Mamma mia, mi puoi incazzare tantissimo Mamma mia E quindi io l'ho voluto ringraziare Con questo bel prank Però, ragazzi Ragazzi, Francesco ci tiene per me Si vede, eh Si vede Si vede, ragazzi Vabbè Francesco, saluta Vabbè, ragazzi Bella, ragazzi Vabbè, ragazzi Vabbè, ragazzi Vabbè, ragazzi Vabbè, ragazzi